Sì, 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 sì! Grazie a tutti! 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 Via! Grazie a tutti! 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 Sei fottuto! VATEMI SOTTO! Oh, merda Attenzi! RPG! 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 Come RPG tibetano? Hey, Tomusho! Oh, merda! Give me a shot! Vai! Oh, no, 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 no! Attenzi! Attenzi, dove sei? Oh, no! Oh, no, no, no... Ah! Ah... Ah! Ah! Non provarci. 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 Tenzin! Tenzin! Non provarci. Tenzin! Non provarci. 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 ti ho lasciato. non provarci. 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 Allora, andati qua! Lei, liberami da questi tipi! Ci sei! Grazie! Attenta, Ciglio! Sì! Sì! L'auto di testa! Vai! Tieniti! Ci siamo, bastardo! Non avete scappo! Oh, bordo! Non possono essere sopravvissuti! Andiamo! Forza! Come ai vecchi tempi, eh? Puoi dirlo forte! E adesso? Andiamo al vecchio Monastero Oscuro! Dove, se no? Ecco, Schaffer! Barnazione! Che succede? Ha preso la Zarevic! Oh no! Sei pronta? Certo che lo sono! Eh... C'è sempre quasi Tu ci sei? Piano ora. Forza. Bella vista. Uomini. No, no, stavo parlando delle montagne. Davvero. Forza. Chi non è arrivato? L'ultimo camion non è mai arrivato. Non è arrivato. State attenti. È così. E tutti gli altri? Sono andati con Lazarevic. Ha portato il vecchio al monastero. Portate queste casse nel monastero. Sì, subito. Ehi! È vivo! Inchiodatelo! Non puoi scappare per sempre! Sì. 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 Su, da questa parte! Sì. Attenzione! Soldati! Non ci hanno visti. Stai indietro, eliminerò io questi tizi. Sì. 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 Ma... No, no, no. 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 Grazie a tutti. 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 Ok. 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 Ahahahah! Prendi! Merda, sono su entrambi i lati. Ci vediamo. Ah, merda! Ah, merda! Oh! 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 Ah! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Vai, vai! Grazie. 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 Via libera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Scendo e te la lancio. Grazie a tutti. 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 Dovrai fare un bel salto. Ti prenderò io. Ok. Ti ho presa! Listo? Tutto ok. Forza, vieni qua. Ok. Dammi una mano, non spingerla. Fatto. Ora possiamo salire su questa cosa. Forza! Fai attenzione, queste tavole sono vecchissime. Ehi, ho una corda! Guarda, lassù. Sono loro? Sì. Stanno portando Shaffer nella torre. Dannazione. Presto, dobbiamo sbrigarci. Sì. È chiusa. Non c'è speranza di passare. Ok. Io provo ad andare dietro per aprirla dall'altro lato. Aspetta qui. Ok, ma non farti notare. Non dobbiamo assolutamente attirare l'attenzione. Ok. Sarò... un ninja. Ok. 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 Oh, merda! Silenzio. State attenti, state allerta Svoboda Casi Svoboda 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 Nate! Nate! Oddio! Nate! Nate! È fottuto! A terra! È fottuto! A terra! A terra! A terra! Nate! È morto! Non provarci! A terra! A terra! Non provarci! Non provarci! Oddio! Hai perso! Non provarci! Non provarci! A terra! Non provarci! A terra! đến E a ferra! Granata! Nate! È morto! È morto! È morto! È in arrivo! È morto! È morto! È morto! È morto! ok 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 preso Nate ah 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 alzati a combat ah 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 Grazie. Non perdetelo d'occhio. Non perdetevi. Non perdetevi. Non perdetevi. Non perdetevi. Non perdetevi. Scusate. Ok, giochiamo a pulito. Oddio! Scusate. Ah, merda. Cecchini. Siamo pesci in un barino. Fammi salire fino alla scala. Elena, forza! Spingo su. Fai attenzione lassù. Va bene, ecco. Forza! Fai attenzione. Fai attenzione. Fai attenzione. Fai attenzione. Fai attenzione. Fai attenzione. Dobbiamo attraversare il punto. Non possiamo uscire ora. Quei cecchini ci farebbero a pezzi. Ehi! Credo ci sia un fucile da cecchino lassù. Non ci sia un fucile. Non ci sia un fucile. Non ci sia un fucile da cecchino lassù. Non ci sia un fucile da cecchino. Non ci sia un fucile. Non ci sia un fucile da cecchino. Non ci sia un fucile. Troppo vicino. Com'è? Wow! Chezza! Sono stato io! Oh man Viglaco Ok. 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 No! 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 Ci vediamo! No! 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 No bene. No bene. Sì. Sì, come. Sì. 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 Eccoci. Sì. 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 Grazie. 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 Eccoli là Figlio di puttana Non abbiamo molto tempo Dobbiamo... Forza! Eccola che va Ti seguo Stai bene! Corri! Non fermarti! Nate! Sei ancora lì sotto? Sì No! No! No, no! Farza! Forza! Ci sei! Prendi la mia mano! Ok! No! Tirami su! Tirami su! Non attraverserò mai più un ponte con te. Fatto. Bene, vediamo di aprire queste porte. Ok. Forza, dammi una mano. Fai attenzione. Dietro di te. Ci stiamo avvicinando. Indietro. Eccolo a Zarevici. State in guardia! State allerta! Sì, signore! Dov'è Shaco? Non lo so. Credo li tengano lassù. Sì, signore. Decider! meine Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti.